e nel baule, oltre all'opens, ho trovato anche un mio amico ciao e niente, lui si fa chiamare Falkion e mi seguirà un po' in questo tratto questa avventura questa avventura, questo dramma di una famiglia andiamo da quest'altra parte intanto la strada è molto semplice o almeno sembra qui intanto c'è un bel tool e oltre al tool c'è anche un bel incontro ti sembrano un po' scattosi? nemici temibilissimi attenzione questo è da fuori dalla portata infatti e ora guarda bello esagero bello vero? come mai? perché ha dato darkness o blind o cecità esatto come la vogliamo chiamare e intanto allora si dà una pifola curata perché non ho a parte è vero ho 22 di quegli oggetti maledetto bastardo e continua con la sua scattosità e ora muore d'accordo ovviamente ci dà gli oggetti ma non li prendiamo perché ne abbiamo già parecchi a questo punto ricarichiamo niente ah già sto usando il buon vecchio MP5K l'arma più sgrava da generazione e generazione di FPS e anche qua non è poi così malvagio adesso li siamo al nostro bifio sperando non ci sia un altro incontro questo non è niente niente incontro bene bellissimo come l'olio e qua siccome è andata bene prima invece no va bene di nuovo e non c'è male quindi ne abbiamo passate due e adesso tornando un baule uno shaggan M870 tanta tanta lana e questo ci potrebbe far con ha 20 slot ne ha parecchi 6 slot tipo vediamo un po' che che proprietà si ritrova questo ragazzo M870 spara due volte e ha burst spray multiple targets wow proviamo proviamo vediamo un po' questo M870 anche più range del machine gun una cosa incredibile cosa che non so bene per quale motivo però il tempo di ricarica un'ipotesi sul tempo di ricarica vediamo vediamo lo testiamo questo splash damage all'incirca il doppio del machine gun ci siamo si speriamo su di lui il danno c'è il danno c'è però ancora lo spray non si è fatto vedere perché erano troppo distanti uno dall'altro non è giusto che sia anche perché è molto scattoso questo ragazzo anche una bella sprite però lo shaggan c'è da dirlo prendiamo tutte le munizioni e niente ricarichiamo il nostro shaggan che ovviamente M870 roba mai sentita dire ma tant'è sono tutti assicri trovare un bel FAMAS sarebbe troppo e qui mannaggia perché eravamo arrivati sono tre buone chance di provare lo splash damage ecco di qua ci siamo PEM PEM up per un attimo ottimo ottimo avevo visto un 664 mi era preso un attimo ma ho detto sta per no ancora BAS darkness esattamente però siccome io sono stronzo potrei usare un oggettino del cazzo previene anche il vero più di tanto me lo droppano nuovamente fare impressionanti effetti grafici ora la 2 ci saluta bene 3 item e ovviamente un più di ci sarà per forza anzi ne ho presi troppi e vai 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 andiamo si va a fan giro andiamo a fan giro quindi adesso si dovrebbe essere dove prima ed un altro incontro ma adesso c'è lo splash ehmison ma ha una percentuale altissima di dare di dare il darkness 100% mi dà l'idea non lo so però tutte le volte si è per ora che è ben duittato ecco ma come si si è 100% ma ho usato un cazzo di oggetto dove c'è scritto espressamente che previene e cura questo problema ma cura solamente oh via giù torniamo un attimo fem no ah facciamoci un altro asto tanto per eh qui sono fatto prendere un attimo una mano usiamo anche io altri serviti serviste non dovrebbe hittare bene a questo punto usiamo anche scan tanto non voglio usare un altro oggetto diciamo scan mentre mi sta attaccando attenzione bene sono andato anche nel video uh sensitive to kick si va va ma porca direi è molto 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 frustrante questo incontro per non usare altri termini appena finisce darkness salutiamo il ragazzo e adesso avrebbe benissimo riprendiamoli tutti e due e proseguiamo nel viaggio che volevo fare ricaricare sette colpi ci stanno tutti chissà se chissà se troveremo anche un bel fucile a pompa automatico adesso vediamo un po' ma se vado tutto a sinistra ecco non c'è niente niente in realtà in realtà un bazooka e ora vediamo ah non non no no si mostra solo durante giustamente durante il combattimento giustamente lei ha una pistola un altro incontro un altro batcoso qui voglio vedere come potrò infatti non posso non puoi schivare oddio per di un cibacco vediamo un altro creatore di questo giolo l'hanno messa su sui nervi sui nervi proprio in questo incontro in questo incontro l'hanno messa su puramente vediamoci ugualmente siamo lì vicino ma ha fatto solo 12 ah era già uscito dal dal range vai ora ora o mai grande o ho schivato grande grande non chiedetemi nome non chiedetemi il perché ma ho schivato altra curata siamo a piena vita e finalmente oltrepassiamo questa pasta legna che ci porterà dove ci porterà mmm bene c'è sangue ovunque e anche un po' di liquido malzano eh sì questa sembra tanto una pompa dello smistamento come un po' come un po' come un po'